rieccomi nuovamente nissan leaf nismo perché c'è la versione normale di questa auto è la versione nismo come tutte le auto della nissan è un'elettrica da 240 kilowatt suddivisi su due motori ho scelto un percorso con la polizia non me l'aspettavo sono nella ztl ci posso stare o l'elettrica per quanto è forse l'ordine non sono avvisate sono andato nella ztl qui a shanghai c'è la ztl ma loro non lo sanno e mi inseguono vado a 0 a 100 in poco più di tre secondi e mezzo poco meno poco più di tre secondi e mezzo può entrare le ztl magari non so se può andare in strada questa versione specifica però c'è la versione stradale che è vostra una trentina di mila euro circa vai che ho vinto polizia ciao ciao ok ragazzi con questo è tutto era la nissan leaf versione nismo su asfalto 9 ci becchiamo al prossimo video e ancora aspetto le mie sfidate